Allora, chiamate queste due specialità, sono le specialità che mi hanno fatto attaccare. Io la vedete, stavo prendendo la specialità del lattamento, la specialità del lattamento, il lavoro che facciamo già con un'ottima tecnica, la stagione di un'ottima, contro cui, vediamo che iniziare a impostare le strategie, se non la ceni, in realtà, che riuscire a ottenere un'ottima, ma non è apposta Nel Dio, perché è un sportivo, l'obiettivo non è fare male, che non è venire a costare, non ci ha fatto da fare, l'obiettivo è fare un'ottima, perché si è a fare un'ottima, è sempre un'ottima, se non si è a fare un sport, poi non si deve fare un'ottima e non è inventare un lavoro, con il primo che si mi trova qualcosa di più, perché si mi trova un'ottima cosa, che mi trova un'ottima cosa perché mi trova un'ottima, la mia città è una cosa che mi trova un tempo, è tutto il palo di città. Senti, stai giù col barbio. Non stai giù. Senti, stai giù col barbio. 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 Senti, stai giù. Stai giù col barbio. Grazie. Grazie.